20 nuovi contagi, due attività chiuse, provvedimenti per altre quattro classi, unione di nero per il centro Abruzzo che dopo i 43 casi mesi a referto tra Natale e Santo Stefano continua a far registrare positivi a due cifre. La curva epidemiologica risulta sbilanciata, questa volta verso l'Alto Sangro che mette a referto più della metà dei nuovi positivi, ovvero 13 su 20. Pesa il nuovo focolaio che si è acceso a Rivisondoli, legato essenzialmente a due nuclei familiari. Il contagio in famiglia tenderà a crescere in maniera esponenziale dopo le rimpatriate di Natale. Sono inoltre scattate le misure di contenimento del contagio in due bar, sempre in Alto Sangro, chiusi in attesa della stabilizzazione del quadro epidemiologico. I nuovi positivi che hanno dagli 8 alle 87 anni di età risultano così domiciliati, 9 a Rivisondoli, 3 a Goriano Sicoli, 2 a Roccaraso, 1 ciascuno a Sulmona, Castel di Sangro, Prato, La Peligna, Pacentro, Casteldieri e Barrea. Il capologo Peligno ne è uscito più o meno indenne, mettendo a referto il solo caso di un imprenditore di 54 anni, anche se nei prossimi giorni la curva potrebbe tornare a impennarsi su fronte sulmonese, a causa delle numerose segnalazioni di positività al test antigenico riscontrate nei weekend con il virus che ha rovinato la festa. Si dovrà inoltre misurare l'effetto del Natale sulla curva con gli assembramenti registrati, l'ordinanza sulle mascherine è pressoché ignorata. Inoltre sono scattate le misure di contenimento del contagio per altre quattro classi, due in Vale Peligni e altre due in Alto Sangro, che saranno convocate per il doppio tampone molecolare per effetto del tracciamento a ritroso. Almeno su questo fronte arriverà una relativa tregua fino al 6 gennaio, con le festività natalizie ancora in corso. Complessivamente sono 267 le attuali positivi in centro Abruzzo, di cui 124 residenti a Sulmona, a fronte di otto guarigioni messe a referto nelle ultime 24 ore, restano relativamente stabili, sorvegliati dalla ASL. Sono infatti 436 le persone sottoposte a quarantena sul territorio, il dato rassicurante riguarda i ricoveri, che non si discostano dalle ultime rilevazioni. Risultano ancora sei posti letto occupati per i pazienti del centro Abruzzo, la speranza di mantenere la pressione ospedaliera contenuta, anche se con la nuova variante in circolazione si rende necessario il recupero della consapevolezza del rischio. Buone notizie arrivano dal centro vaccinale dell'incoronata, dove sono state inoculate 280 dosi, con un record di somministrazioni fuori lista. Si tratta del dato più alto di questa quarta ondata.